Nel 1717 nasce a Londra la Gran Loggia, si forma la massoneria moderna, quella massoneria cioè che è nettamente diversa da quella precedente che per esempio aveva organizzato i muratori nel senso di i costruttori proprio di cattedrali, di palazzi, con i relativi segreti che si tramandavano nelle varie corporazioni. Questa massoneria è diversa perché è una massoneria che sempre si chiama associazione dei liberi muratori però che non pretende più di costruire una cattedrale, ha un'ambizione un pochino più vasta, vuole costruire il mondo secondo un progetto filosofico, secondo un progetto giusto che porti alla felicità. Per questo io ho fatto precedere a quella di oggi pillole che si sono occupati di filosofia perché qui riprendiamo a livello più divulgativo, sempre molto elitario, ma più divulgativo rispetto a quello costituito dalle singole intelligenze riunite come voleva Bacone in un'impresa che aiutasse a scoprire la verità. Qui le verità che i vari filosofi da Bacone fino a Spinoza avevano costruito vengono utilizzate e diffuse in un ambito maggiore, più esteso perché poi anche la massoneria si estende molto rapidamente in tutto il mondo, di fatto accompagnando il colonialismo inglese. Perché? Perché per esempio il colonialismo spagnolo e portoghese avevano avuto come centro di unione di territori lontanissimi con popolazioni diversissime, tradizioni enormemente diverse, la religione. I spagnoli e portoghesi evangelizzano, quindi il denominatore comune di tutti i territori sia portoghesi che spagnoli è la comune fede in Gesù Cristo. Adesso non c'è più questo elemento comune perché il colonialismo inglese non ha come obiettivo prioritario l'evangelizzazione, no, tutt'altro, ha come obiettivo prioritario il commercio, quindi anche la ricchezza. Allora, la massoneria, cioè la diffusione nei vari continenti di queste logge in cui siedono fratelli, in questo modo il colonialismo inglese riesce a costruire un minimo con un denominatore fra tutti i popoli su cui comanda, popoli di cui riunisce le elite nelle logge, certo la massoneria non è un'istituzione esoterica per tutti, è estremamente esoterica. Nel 1723 James Anderson, che è un pastore presbiteriano, scrive le Costituzioni dei liberi moratori. Sono un testo fondamentale ancora oggi, che è molto interessante. Innanzitutto è interessante chi lo compone. Lo compone un pastore presbiteriano, cioè lo compone un protestante di ispirazione calvinista. Questo a significare il legame molto stretto che c'è dall'inizio fra la massoneria e il protestantesimo. E infatti, liberi muratori, questa insistenza sulla parola liberi, è un'insistenza che ha come padre spirituale sicuramente Lutero, il quale ha voluto affermare ed essere libero da cosa? Libero dal Magistero, libero da Roma. Andando avanti nel tempo, il protestantesimo si è evoluto, la filosofia si è evoluta e questa libertà viene pretesa non solo dal Magistero, ma anche dalla Rivelazione.